Ben ritrovati nella casa del foot ragazzi, qui è Mick e Andre Eccoci ritrovati con un primo episodio su questo canale di un bel pack opening Come probabilmente avrete visto il video, vi abbiamo chiesto su quale account, su quale squadra fare il pack opening E visto che la diatriba è ancora in via di sviluppo, abbiamo deciso una cosa La facciamo sull'account del Play4Fame, siccome sia sul mio sia sull'account di Andre avevamo già usato il bug dei FIFA Points E per chi non lo sa in pratica si usano 20€ per 2200 FIFA Points, poi si esce e si rientra e si moltiplicano Infatti adesso abbiamo 4400 FIFA Points, quindi abbiamo usato questo account Poi quando finiremo, siccome state ancora rispondendo, vedremo se lasciare i crediti su questo account oppure spostarceli nei nostri account Quindi solo questo, se vedete questo account è soltanto perché appunto Per questo motivo Esatto, solo per questo motivo, poi decideremo Abbiamo oscurato i risultati perché Mick ha già registrato il prossimo episodio Sì, infatti In modo da non spoilerarvi niente Esatto Possiamo partire Eh io direi di aprire quello lì grosso 15.000 Sì, quello, quello Però, vai, vai Vai, vai Te la senti? No, questo no, questo no Questo no, questo no Occhio Chi era? Non lo so Cos'era il nome? Allora Romero, gran portiere Per esempio Romero è un giocatore che dovrebbe valere molto di più Ho visto che è il portiere dell'Argentina Ma fa schifo E appunto, vabbè Ciao, e spero, questo non deve essere male Secondo me Vai a destra 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 Quanta merda abbiamo trovato Quanta merda abbiamo trovato A gente E butta dentro tutto Ma è un bel X X Conserva tutto Vai Vai conserva Sì, non scartiamo niente a momento Abbiamo aumentato la Esatto, la cosa, la roba degli osservabili, consumabili, consumabili, osservabili e osservabili è la stessa cosa Apri apri Ah, 300 ancora E vai vai La senti? Me la sento, 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 shurle Quanto vale? Ma non lo so Vale poco, penso Dipende Che ruolo è, shurle? Non lo so È l'esterno-sinistra, sì, vale poco Chi è quello? Che andreva? No, no, quella sinistra Malichi Un portiere abbastanza scarso Ah, secondo me invece è forte Ma È francese? In che liga gioca? Basta che vai a destra con l'analog Ah, sì League 2, noi siamo League 1 Sono l'avremesso League 2 Sono l'avremesso al posto di Mandanda Non è quello lì Guarda quanta merda abbiamo trovato Vabbè, contratti possono servire Capito 4, 2, 3, 1 Neanche i modi Ora quanti stai Eeeh Ma ho finalmente Dai, almeno la maglia Anche se ci dicondi No No Questa maglia no Ma dai, la d'Atalanta è una buona maglia Ma fa schifo Ma è una buona maglia I colori non mi piacciono Eh, vabbè Ho parlato a me Eh, un altro di questi Io Non lo so, decidi tu stavolta Dai però No, usiamo uno Uno di questi Quindi da 7500 hanno qualcosa Hanno quel qualcosa Quello cascino Eh, esatto Che trovi tutti i giocatori non rari Proprio quei quelli Eh, mi sento i giocatori non rari Che era Dan Non l'ho visto Ho inizio con la P però No, inizio con la D Era Dan Era Dan Ottimo difensore Ah, anche Zebina Ah, però gioca nella Ligan Sì Io fossi in te Lo schiererei nel prossimo episodio Sicuramente Ok Bello schifo Eh, abbiamo un allenatore Che però non è del nostro modulo Il pallone ci sta E la maglietta pura Maglietta è gasante Assomiglia a quella del Portogallo Sì, ci può stare, dai Ci può stare Perché tu del cazzo Passate tutti gli oggetti E rimasti alto club Vai, vai, vai Questa, questa non la sento Questa non la sento Non te ne senti neanche una Continua così Sono finiti No, prima me la sentivo Ah, prima Prima me la senti Questa me la sento io No, cosa te l'ha sentito Isco Settecento No, non lo so Forse anche di meno Ah, perfetto Una volta valeva tanto Isco Devo un paio di anni fa Quando non giocavo ancora Valeva tanto Mignolè 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 Ma quello lì a sinistra Mi ispira Così, così Me lo scambio subito Questo ce l'avevo io Sul mio primo account Mi sembra che è stato uno Dei primi giocatori Che ho trovato E non sono neanche riuscito a venderlo Ah, ah L'ho scartato alla fine Ma è un ottimo giocatore Quindi Gasante No, quella a destra è bella Quella fa schifo Questa è bella Sì, è carino In bagno del Barcellona Viene il vomito Non è la Barcellona È uguale Però quei colori Vabbè, ma se non è Mettono Mettono una tristezza Rosso Cupo Blu Cupo Ma Ma schifo Appunto Molto meglio Bianca, per esempio Cioè Questo punto La prendi trasparente Fai prima Occhio Occhio Marchisio Vabbè, ma anche meno Dipende al modo Ma è comunque un buon giocatore Però abbiamo i mille Un portiere di canna Guarda anche al nostro modo Questo lo teniamo Questo lo teniamo E giocherà E prenderà un sacco E prenderà un sacco Cinque, perfetto Guarda anche al modo migliore E vabbè, ma comunque ci sto Di centrocampisti centrali Sì, ma fa schifo Vabbè, ma è un buon giocatore Marchese Abbiamo trovato addirittura Due, due, di sti cosi Si chiama assistenti È quello non Non riscattarlo Non riscattarlo Come faccio? E conservi tutti Mi sa che si conserva anche quello So, dici tu Oh Sì, anche dove è andato No, no, no Ah, vedi Ah, vedi Questo lo riscattiamo Sono mille crediti per noi Per noi Vai, riscatto oggetto Complimenti 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 Un altro Mi piace di più Questi a cento Sì, da 150 Perché sembra che non finisla Melo te lo senti Melo te lo senti E io Felipe Melo E se che è Garai Non è Achille Garai No Non è Eh, 4-1-2-1-2 Comunque si può vendere a 50 in più Uh, possiamo fare una Lega Araba Eh, anche della stessa squadra Sì No Non so Sì, sì, è della stessa squadra Me la ricordo Sì, sicuro che non ci sia solo Oh, però c'è una forma Ma questo, questo è interessante Che ci potrebbe stare Radio, Stadia Europa Stadia Europa Ci otteniamo Ci otteniamo Ci otteniamo Ci otteniamo Ma tu spara tutto là Stiamo finendo nella Pira Consumabili Con questo Sto guardando 52 Due, tre pacchetti Vabbè, poi li butteremo dentro Nella Pira Scambio Ok Eh, ancora Vada, vada Vado Vada Te lo senti Me lo sento Questo me lo sento Questo sì Santi, cazorla Complimenti Complimenti Non vale qualcosa Almeno Credo Vado 4 12 12 Potrebbe valere qualcosa E un tempo valeva molto Adesso non so C'è due giocatori d'argento Stiamo scherzando Luciao Spalletti Complimenti Complimenti Lì Vero schifo Oh, questo mi piace Questo mi piace Anche a questa possiamo usare Via tutto Via tutto Ah, casorla Casorla Marchese Due giocatori rai ci sta abbastanza ci sta ci sta buoni ma guarda marchisio ma lo ritroveremo te la senti? no no me la sento e neanche io in questa se è one jesus è buono e invece no è one della roma mi sa che schifo e quello che era della roma guarda neanche un giocatore raro vai a destra voglio vedere quel modificatore oh no buono complimenti oh bella bellissima questa usiamo questa usiamo che neanche quella casa sarà però quella per scavi bella si è più bella conserva il tutto conserviamo tutto consumami 63 altri due pacchetti si si mi spiampi di più questi a 150 occhio questa la sento la senti chi era ma non lo so o sono sala d'argento fidati fidati buono è buono giaccherini no giaccherini è il fenomeno qua occhio occhio perché giaccherini è un buon destro sai che non c'è non non c'ho mai giocato contro contro giaccherini ah guarda altri mille crediti perché c'è anche qualcuno che usa giaccherini non so ha giocato contro uno che usava pepe ah pepe si 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 l'ho visto questo lo viena riscattare per forza si altri mille crediti complimenti 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 ma è il cagliari non sarà tutti gli oggetti vai 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 altri cinque ah cinque però beh vai oh ma sento tanti banica banica fa schifo fa schifo si 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 fammela sentire a me ah ok io non me la sento eh esatto flaccia flaccia boh dove cazzo gioca questa la punta slica che squadra è rid ba vabbè den bambi den bambi den bambi prova d'avanzia prova d'avanzia qualcosa può valere secondo me si mille mille vabbè modificatore oh le no no per un momento anch'io ho dovuto pensarci fatti ah ma che bel signor otto lì si bel capottino tutta il club mi fa freddo vediamo cosa non ci va perfetto proprio te eh via via scambi cosa mi affacci tanto la via scambi è anche piena quindi quasi piena quasi piena quasi piena eh non abbiamo tanti pacchetti a prima vai me la sento me la sento questa me la sento questa me la sento è il mander ah un buon giocatore si vende non è neanche raro quindi non abbiamo trovato rari guarda abbiamo trovato due maglie rare del liverpool e dell'alzeron coppia inglese sworents hm forma fisica ah questa è buona ah stemma del liverpool neanche la maglia eh vabbè sempre meglio carino la maglia tanto in casa c'è quella del perscara è inutile che conservi tutti i giocatori vabbè in effetti manda manda sgancia la pila scambi quasi piena eh quasi piena aia vabbè al massimo al massimo dovrebbe essere mio papà se non sbaglio in teoria ah in teoria è mio papà al massimo eh direi che un altro pacchettino ci sta poi magari fermiamo facciamo pausa primo episodio dicempa che un altro pacchettino ci sta dai oh la senti io no io per niente sul finale no me la sento me la sento sul finale sul finale proprio gasante ederluis mai sentito ah non mi hai sentito ah che cazzo è 90 di velocità e chi è ederluis 80 i dribbli ma dove ho uscito non lo so 3 stelle però dai che brutto non si può neanche schillare brava la voce si guarda abbiamo trovato la maglia dell'arsenal l'ospiti dopo aver trovato quella di casa prima possiamo fare un contratto buon contratto e bentrati 45 bella quella dell'arsenal l'ospiti però ci sta con la maglia dell'arsenal schifissima eh il pallone è stato pitturato l'armo ospiti conserviamo tutto e il resto mandiamo alla pila 15 fermiamo qui per il consiglio di fermarci quindi a prima parte finisce qui prima parte finisce qui adesso noi analizzeremo quello quello che c'è rimasto esatto cosa abbiamo trovato esatto analizzeremo il 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 bottino il bottino si e vi faremo sapere e vi faremo sapere poi però comunque arriverà il secondo episodio con gli altri 2300 sono 100 in più di questi e su quel 100 io ci punto ci punti ci punto su quel 100 al prossimo episodio dovremmo aprire questo con un oggetto raro eh però non ci sta più niente giusto al prossimo lo apriamo perfetto ok perfetto noi vi salutiamo e niente ci sentiamo con gli altri video bella bella bella